Aprire un'attività in un momento così difficile è un miracolo? Negli ultimi anni abbiamo toccato il fondo, possiamo dire, quindi davanti a noi c'è solo la risalita. Io ho voluto reinvestire su me stessa per la seconda volta perché 13 apre le porte due mesi prima della pandemia. Purtroppo non sono stata tanto fortunata, però ho deciso di non arrendermi, sono andata avanti, ho reinvestito tutta me stessa, ampliando il mio locale. Diciamo che con tutti questi colori, questa nuova disattività d'abbigliamento, ho voluto portare un po' di colori per il nostro futuro. Sperando che si possa andare verso un futuro migliore e di lasciarci tutto il peggio alle spalle. Perché la speranza è, come si dice, l'ultimo a morire. Una cosa importante, specialmente se detta da una giovane, quella di investire anche su se stessi, è un bel messaggio che lei dà a tutti. Sì, io ho aperto l'attività che avevo solo 23 anni. Tante persone non credevano in me, prima di tutto perché sono donna. Poi appunto per la giovane età, però con l'apertura oggi del mio nuovo negozio, credo di aver dato un bello schiaffo morale a tutti. Tutti quelli che non credevano in me, ma soprattutto un abbraccio a chi ha sempre creduto in me. La mia famiglia, i miei amici, il mio fidanzato. E quindi non posso che ringraziare tutti quelli che oggi sono qui con me a festeggiare questa nuova apertura. E niente, diciamo che il mio è un piccolo faro di speranza per un futuro migliore per tutti. Grazie.